Ancora sei settimane e poi sarà tempo di elezioni europee e amministrative. Le operazioni di voto si svolgeranno in una sola giornata, domenica 25 maggio, dalle 7 alle 23. Le consultazioni per eleggere i membri italiani al Parlamento europeo saranno abbinate alle elezioni amministrative, che coinvolgeranno oltre 4.000 realtà in tutta Italia. 97 i comuni al voto in provincia di Como, dal più piccolo, Barrezzo, con 179 abitanti, secondo il censimento del 2011, al più grande, Mariano Comense, con una popolazione di 23.500 persone. In generale, in questa tornata amministrativa nel Comasco, quasi un comune su 3 a meno di 1.000 abitanti, mentre 18 paesi superano i 5.000. Al voto, il 25 maggio, anche i tre comuni nati, dalle recenti fusioni e attualmente commissariati. Bellagio, che si è unito con Civenna, Colverde, che unisce Drezzo, Gironico e Parè, e Tremezzina, fusione dei comuni di Leno, Mezzegra, Ossuccio e Tremezzo. Gli altri tre comuni commissariati, nei quali si svolgeranno le elezioni amministrative il prossimo 25 maggio, sono Argegno, Magreglio e Mariano Comense. Per quanto riguarda le elezioni europee, i partiti e i gruppi politici potranno presentare le liste dei candidati, con le firme necessarie martedì 15 e mercoledì 16 aprile, dalle 8 alle 20 presso le cancellerie delle corti d'appello di Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo.